Siamo qui a Greenchick in Russia, su Mar Nero, l'avventà estiva principalmente dei russi, non per gli italiani come me, infatti italiani non ne ho trovati, parte me e qualcuno che c'è al ristorante e bar italiano. Adesso voglio farvi vedere la differenza di immigrazione e integrazione che c'è in Russia. Ad esempio qui siamo gli unici di colore che ho visto, comunque stanno a lavorare. Adesso ve li faccio vedere, perché non è normale che da noi stiano senza fare niente a passeggiare, mentre qui ovviamente rigorosamente lavorano. Adesso ve li faccio vedere. Giro la fotocamera. Immigrati di colore in Russia, che però ovviamente lavorano, non stanno senza fare niente. Siamo sul Mar Nero.